buongiorno cari fratelli e sorelle vi mando quest'audio per ringraziarvi credo in nome di tutti per il lavoro che ogni giorno svolgete per fratelli e sorelle come me che siamo delle piccole pecore smarrite ringrazio di immensiamente per avermi fatto trovare voi ho terminato da poco il corso biblico e volevo mettervi a conoscenza del mio radicale cambiamento sia dal punto di vista caratteriale caratteriale ma proprio della mia anche crescita spirituale prima di conoscere voi avevo iniziato da poco a leggere la bibbia e già mi sentivo diversa anche nelle piccole cose di tutti i giorni ma avevo sempre dei dubbi su cosa e come fare pensare o parlare il corso biblico per me è stata una benedizione perché riuscivo a trovare tutte le risposte che in preghiera chiedevo a dio avrei tanti esempi da raccontare ma non basterebbe il tempo un grazie immenso a gesù perché tra i tanti cambiamenti positivi nella mia vita sono riuscita anche a fare a meno della tv anzi posso proprio dire che i film i programmi che trasmettono in tv ormai per me sono come spazzatura l'unico momento in cui accendo il televisore per guardare dei film cristiani che voi consigliate nel corso biblico oppure cerco altri film sempre cristiani su internet adesso so come parlare con gesù come ascoltare la sua voce come cacciare via il diavolo ho tante altre cose ancora da imparare però so per certo che se tengo gli occhi fissi su di lui posso ogni cosa in colui che mi fortifica pregate per me perché posso riuscire ad evangelizzare sempre di più e in ogni circostanza grazie di vero cuore vi abbraccio e spero di incontrarvi presto di presenza che dio vi benedica siete preziosi un bacio a tutti a tutti